L'Avis è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita tra coloro che danno volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. Si tratta di un'associazione, si evince dal sito ufficiale, a partitica, a confessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. Gli scopi dell'associazione fissati dallo statuto sono venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute. È un'associazione presente su tutto il territorio nazionale, con una struttura ben articolata, suddivisa in oltre 3.000 sedi comunali, tra cui è presente anche la sede di Agropoli, i cui soci sono attivi su tutto il territorio cilentano. In questi 11 anni di attività, fa sapere il presidente Rosario Capozzolo, abbiamo fatto tantissimo. Il centro trasfusionale di Vallo della Lucania, grazie all'Avis, a volte riesce anche a soddisfare richieste esterne. Abbiamo un bacino di utenza enorme, possiamo e dobbiamo fare di più perché il bisogno di sangue aumenta sempre. Il sangue oggi viene usato per curare tante malattie, una volta ritenute incurabili. Giovedì 18 novembre, a partire dalle ore 18 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli, si terrà una manifestazione in cui verranno premiati i donatori benemeriti, i quali hanno maturato il riconoscimento della medaglia d'oro, come previsto dallo studio dell'Avis nazionale. A moderare la cerimonia sarà la giornalista Raffaella Giaccio, in cui verranno consegnati degli attestati di riconoscimento e degli abbonamenti per il Cineteatro Edoardo De Filippo, in vista della nuova stagione teatrale che avrà inizio venerdì 19 novembre. Quella della nostra Avis, continua il presidente Capozzolo, è una grande famiglia e finalmente, dopo due anni di stop, riprendiamo a vivere a pieno, ma sempre in sicurezza. Un traguardo tanto ambito, ma tanto difficile, grazie a chi, come sempre, ci sostiene con amore e determinazione. A distanza di un mese, il 18 dicembre 2021, a partire dalle ore 9 fino alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19, sempre presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli, verranno invece premiati i donatori che hanno maturato la benemerenza in rame argento e argento dorato. L'invito è rivolto a tutti i cittadini e donatori a partecipare alla cerimonia che ha come obiettivo mettere in risalto l'altruismo e l'amore per il prossimo, donando periodicamente un po' del loro sangue.